Ciao a tutti! Oggi impareremo una cosa nuota, cioè come stappare una bottiglia di vino senza il cavatappo. Per poterlo fare abbiamo bisogno di alcuni accessori. Prima di tutto una scarpa e poi un muro. Bene, procediamo. Innanzitutto togliamo la capsula protettiva del tappo in un nuovo liberato. Dopodiché afferriamo la scarpa e infiliamo la bottiglia in questo cuore. Teniamola ben salda nelle mani e... E voilà! La bottiglia è stappata!